Elemento molto importante a questo punto della serata, l'entrata in scena di Gigliola Cinquetti per i 60 anni di Non ho l'età, lei ha 76 anni, ne aveva 16 per cui i conti sono belli che fatti, però ha portato benissimo, ancora una bella donna ragazzi, veramente da metterci la firma arrivare a 76 anni così. La voce chiaramente era un po' forse rotta dell'emozione, cantava una canzone che chiaramente non la rappresenta più avendo 66 anni, però cosa dici Carlo? Sì, mi è molto emozionata per quella stecca all'inizio, ma poi comunque si è riuscita e poi ha concluso dignitosamente la prestazione. Anche lei era andata non molti anni fa, saremo confinata, forse proprio l'anno del Covid, confinata a notte fonda come ospite. Giusto a giusto, ma a me piacciono questi omaggi e è sempre bene farli in tempo utile, anzi io, al di là del fatto dell'emozione, però magari in condizioni diverse, mi sarebbe piaciuto già da qualche anno vederla di nuovo in gara, come è capitato del resto con le varie Rita Pavone, Orietta Verde, Anicchie e compagnia. Quindi, non so, io tuttora mantengo la speranza di… Ma questo è un modo di cantare che oggi non va più, perché lei è rimasta molto classica, no? Cioè, in senso Rita Pavone era modernissima negli anni 60, lei invece è nata classica ed è rimasta classica. Tanto ricordiamo che è andata a Sanremo diverse volte, me la ricordo nell'85, nell'89. Sì, l'85 è il bel pezzo che avrebbe anche potuto vincere. Pezzone, pezzone. Poi ciao nell'89, poi il brano di Giorgio Faletti nel 95, Giovane Vecchio Cuore, senza contare, ovviamente perché ci perderemo, ma tutte le partecipazioni a cavallo fra i 60 e i 70, ricordiamo la pioggia, storico successo del 69, ne abbiamo parlato nella puntata dedicata. Ha vinto di nuovo nel 66 con Dio come ti amo, quindi insomma, lei è veramente una super big, ecco, quindi è stato un invito, una celebrazione giusta. Più che i 60 anni di non ho l'età, io avrei proprio approfittato per celebrare la carriera della Cinquetti in generale, perché è una carriera che merita. Merita, merita. Sì, peccato per quella stacca iniziale, eh. Mannaggia, ha rovinato un po' le forze, sicuramente l'emozione, ecco. Sicuramente, sì, sì. E anche forse la disabitudine, perché comunque lei ultimamente è sempre stata molto presente nei salotti televisivi, però a livello di cantare proprio non so che attività faccia ultimamente. Non so, non credo, non credo che canti più, forse, non lo so, ecco. Quindi magari è anche un po' fuori allenamento, diciamo. È un po' fuori allenamento, certo, certo. Beh, ha fatto bene ricordare Ciao dell'89, all'epoca lei quarantenne o qualcosa del genere, beh, sicuramente. Una minigonna spettacolare. Minigonna, veramente una, sì, beh, veramente era una bella presenza. Bene, 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 beh, insomma era giusto parlarne in maniera approfondita, visto che il giro alle cinque...